T-shirt bianca da millennial semplice c'è? Oggi arrivo con un video che mi avete chiesto da davvero tantissimo tempo ovvero il look migliore di Justin Bieber e il miglior modo per vestirsi come questa stella del pop mondiale Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e adesso possiamo iniziare Dopo aver analizzato il look di Fedez e avervi dato qualche consiglio su come vestirsi da vero rapper Mi avete chiesto in tantissimi quali sono i look migliori da scegliere per invitare il mitico Justin Bieber Ho analizzato il suo profilo Instagram che devo emettere è molto seguito però è abbastanza trasandato Dovrebbe dare un'occhiata alla mia guida per diventare influencer con i consigli per le foto By the way ecco i capi da avere assolutamente per vestirsi come Justin Bieber Berretto indossato al contrario Il classico berretto con la patta davanti indossato al contrario come un vero rapper Ve lo ho fatto vedere nel look di Fedez e nel look da rapper e torna anche per Justin Bieber T-shirt giro collo basic Soprattutto come quella che sto indossando in questo momento Una maglietta magari bianca, nera oppure grigia Monocolore con una scritta centrale e la scelta migliore Se amate Bieber alla follia In H&M trovate la collezione del suo ultimo tour T-shirt da basket Erano di tendenza nel 2016 E Justin Bieber continua il vertelito di indossarle Le classiche t-shirt da basket Da giocatore di basket Abbinate ad un paio di jeans Jeans Un paio di levis classici Sono sempre e comunque e dovunque la scelta migliore Da Fedez a Justin Bieber al classico rapper Al ragazzo di stile tappa Pantaloni sportivi E' un capo che Bieber indossa spesso Lo vedete spessissimo nei suoi scatti Instagram Deve essere super comodo E' una scelta classica casual Che va bene per tantissime occasioni Da da scuola all'uscita con gli amici Occhiali a V8 Trasparenti Proprio come quelli che ho scelto io Adesso vedrete tutto Io riflesso della luce Sono gli occhiali più full del momento Gli ho scelti anche Justin Bieber Per moltissimi dei suoi look E suppongo Mi indossi con l'occhiali da vista Proprio come faccio io Last but not least La bandana La porta molto molto spesso In questo modo Non nella parte superiore Ma resa una fascia E portata qui Per asciugare il sudore Per il look di Justin Bieber è tutto Spero di avervi dato tantissimi consigli utili Spero che questi capi Siano presso nel vostro armadio Anzi sicuramente li avete già Perché sono davvero davvero molto classici E almeno i t-shirt bianchi Classi come questa Li avete sicuramente L'appuntamento è alla prossima puntata Spero di esservi stata utile Alla prossima Ciao 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 Ciao